ciao a tutti amici di youtube benvenuti ben trovati per un nuovo video oroscopo questa è la settimana che conclude il mese di aprile e apre anche il mese di maggio quindi stiamo parlando di un oroscopo che va dal 29 al 5 di maggio ovviamente vi ricordo anche che nel corso di questa settimana troverete sul canale l'oroscopo proprio specifico che riguarda i sentimenti e eventualmente anche tutto quello che si interseca con i sentimenti per quanto riguarda solo ed esclusivamente quindi il mese di maggio quindi è un altro tipo di oroscopo anche se quello pure settimanale come avete visto per chi mi segue è abbastanza dinamico no una settimana vediamo pianeti una settimana vediamo casa una settimana vediamo qualcos'altro qui ci focalizziamo più sull'aspetto evolutivo dei sentimenti per quanto riguarda il mese di l'oroscopo mensile ma torniamo all'appuntamento di oggi come sempre io vi ricordo ci sono quattro video sul canale sono suddivisi per segni di terra segni di acqua segni di aria segni di fuoco all'interno ogni video è suddivisa in timestamps quindi in capitoli quindi vi potete spostare nel segno zodiacale che vi interessa attraverso i capitoli e l'introduzione è uguale per tutti quindi ne avete vista una l'avete viste tutte invece per quanto riguarda i segni zodiacali il mio consiglio è quello di andare a vedere prima di tutto tre aspetti quelli sicuramente quindi il vostro sole il segno zodiacale quindi l'ascendente che è fondamentale e amici miei la luna la luna poi se volete potete vedere anche venere marte giove quello che vi pare saturno a seconda di quello che viene snocciolato nel corso ecco del dell'oroscopo ma questi aspetti proprio ecco il sole l'ascendente e poi se volete anche la luna eventualmente sono il 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 trittico diciamo ecco essenziale va bene io non mi dilungo più di tanto perché ci rivediamo tra qualche giorno con l'oroscopo di maggio quindi buon oroscopo a tutti quanti buona settimana tanto amore a tutti grazie per avermi scelta aspetto dei like per sostenermi o semplicemente per darmi un feedback rispetto al fatto che le nostre energie match invece se volete commentare mi fa tantissimo piacere io leggo tutti i commenti e non ultimo ovviamente chi è nuovo e vuole iscriversi cosa state aspettando iscrivetevi attivate la campanella così da ricevere tutte le notifiche dei video che verranno postati oggi eppure in futuro alla prossima e buona settimana ancora vi voglio bene ciao benvenuti amici del segno dell'ariete vediamo cosa c'è per voi questa settimana cominciamo bene col matto 6 di denari la luna 8 di denari la torre all intanto facciamo un po la tara rispetto agli arcani maggiori ok mazzo quante spade pieno di spade le stelle e il 2 di coppe e abbiamo tanto per cambiare anche un paggio di spade questa è una settimana nella quale voi amici dell'ariete in qualche modo ecco siete lì come se state aspettando qualcosa o qualcuno al barco qualcuno che sbaglia o anche per rendervi conto di come stanno veramente le cose forse perché non vi fidate forse perché ci siete passati per qualche scotto infatti quello che non vuoi fare vedere sembrerebbe o che sei innamorata o che sei innamorato che hai una relazione di coppia o che tu a qualcuno ci tieni e vuoi che gli altri non lo sanno perché come se questo rappresenterebbe come dire ecco una debolezza potrebbe anche sembrare questo al tuo partner cosa stai mostrando questa settimana abbiamo il matto niente non gli stai dimostrando in realtà niente da un pezzo nel senso che il matto significa che non sai manco che strada vuoi prendere cioè non sai se non si capisce qua se inizia se finisce tra l'altro in questo mazzo di carte il matto è un po' particolare perché come vedi qua non si butta è qualcuno vedi che viene morso da una da un serpente da una vipera quindi è come se tu fossi sempre pronta a scattare a scattare ad avere anche un atteggiamento se si può dire così scattoso i contatti le comunicazioni ci sono cose che avvengono sotto traccia la luna segreti quindi cose che sicuramente tu sai che segreti sono ma magari ecco non li partecipi giusto infatti anche qui si vede che tu vuoi che delle cose non vuoi che si sappiano in giro come si suol dire come ti vivi la l'amore come lo stai esprimendo abbiamo la torre come se è tutto finito la torre significa con la rottura con la separazione come se non te ne frega proprio niente così ora o tu hai rotto con qualcuno di ufficiale tieni un'altra persona potrebbe anche significare questo per qualcuno di voi casomai fammelo sapere nei commenti se ci ho preso oppure significa che vuoi fare vedere che una relazione è finita magari ecco per proteggerla ok perché quello che si vede no tu le proiezioni sul tuo partner ce li hai anche legata al futuro quindi può significare che hai messo qualcuno in panchina per riprenderlo dopo o semplicemente che stai chiudendo una relazione per entrare in una relazione nuova che nel frattempo è segreta ok e si vedrà in futuro alla luce del sole che c'è questa relazione riguardo alla famiglia alla casa abbiamo lotto di denari quindi direi che ci sono degli impegni delle cose che ti vedono nella direzione di chi vuole portare le cose fino in fondo non è tanto il prendersi le responsabilità ma sapere che uno ha dei doveri più che altro si vede questo andiamo a vedere al denaro il denaro e anche il lavoro qui abbiamo il denaro sei di denari quindi significa che i flussi ci sono di denaro sono buoni non sono costa grande generosità ma il giusto c'è per quanto riguarda il lavoro la situazione di stallo potrebbe anche significare che in questo momento non ci sono chissà quali possibilità che significa in modo particolare che so se uno vuole fare un salto nella carriera o vuole aumentare i clienti in questo momento queste cose non arrivano andiamo a vedere quali sono le influenze passate che possono insistere per esempio nella tua relazione no il nove di spade il fatto che come dire ecco le preoccupazioni le ansie anche l'essere stati lasciati un senso di solitudine anche fammi dire le paure parliamoci chiaro proprio le proprie paure le cose del passato la paura insiste è la cosa che insiste più di tutti nella nella tua relazione nelle tue relazioni affettive ok qui riguarda la tua spiritualità se si può dire in questo modo risveglio diciamo che c'è un senso di insoddisfazione questo potrebbe essere magari ecco foriero per la ricerca di qualcosa che però per ora non c'è anzi c'è il senso di rimpianto e di mancanza vediamo quelle che sono le tue ambizioni aspirazioni in questo momento sembra che non ne hai proprio anzi sembra che tu sia deluso per qualcosa che è andato perduto infine e non ultimo come ti prendi cura di te abbiamo qua l'arcano maggiore delle stelle quindi significa che ti stai prendendo cura di te abbiamo le stelle che parlano di sogni di pace di bellezza quindi in qualche modo tu stai coltivando un qualcosa stai coltivando un sogno stai coltivando qualcosa legato a un destino legato a un tuo senso di pace almeno questo è quello che si vede qui va bene se ti va fammi sapere come ti risuona like se il video ti piace o semplicemente per o sostenere il canale oppure per farmi capire che le nostre energie match noi ci vediamo la prossima settimana per l'oroscopo ogni giorno con un nuovo video e nel corso della settimana anche con l'oroscopo del mese di maggio alla prossima tanti auguri ciao amici del segno del leone mi dovete perdonare solo un nanosecondo perché devo mettere qui il telefono in carica ok va bene spero che funzioni ok allora vediamo cosa c'è qui per voi questa settimana 3 di spade 3 di bastoni ammazza quanti 3 ruota della fortuna due di coppe lo ierofante asso di coppe 3 di pentacoli 3 3 3 3 molti 3 cavaliere di bastoni 7 di bastoni 7 di denari regina di spade ops qua escono le carte papessa e paggio di e paggio di di spade a fondo mazza abbiamo lotto di coppe diciamo che c'è un senso di non è esatto dire solitudine però come se vi sentiste trascurati per delle cose messi da parte non compresi non capiti probabilmente o qualcosa che dovete mettere da parte vediamo un po come questa settimana intanto quello che si vede con questo 3 di 3 di spade e che voi al vostro partner fate vedere che state soffrendo ok e avete l'aspettativa quantomeno o la proiezione che in questo senso il vostro il vostro partner invece possa essere di aiuto quindi la vedi come una persona collaborativa lo vedi come una persona collaborativa in amore diciamo ecco esprimi tutto con un senso di equilibrio di perdono con maestria con saggezza ma anche con a volte certi giudizi molto morali in questo caso in famiglia direi che due di coppe o con la casa con la famiglia va tutto bene e quali equilibri ci sono per quanto riguarda invece le influenze del passato che insistono per te in questa settimana abbiamo il cavaliere di bastoni quindi significa che c'è una certa impulsività un certo impeto per qualcosa che evidentemente prende il sopravvento dal vostro punto di vista anche non dico come impossibilità come un qualcosa che esercita su di voi una certa attrazione no per quelli che sono gli ambiti spirituali non mi sembra come dire ecco che siete su quella lunghezza d'onda perché il sette di bastoni significa che ora come ora non me ne frega proprio niente della spiritualità del risveglio di dio siete molto legati al piano materiale mentre quest'altra carta invece ci esprime quelle che possono essere le tue ambizioni sette di denari hai seminato dei frutti adesso aspetti che in qualche modo ecco possano vedere la luce possono letteralmente ecco sbocciare questi fiori e questi frutti come ti prendi cura di te in questo momento la regina di spada è una regina di rinunce è una regina come dire ecco che sta facendo dei tagli un po ostera in questo momento quindi non non ci sono momenti particolarmente soddisfacenti sul piano egoico più che sul piano egoico sul piano personale c'è che so se dove comprare un paio di scarpe non è il momento il denaro tre di bastoni diciamo ecco non dico che lo state vedendo in questo momento col cannocchiale però questa è una carta che dice sul denaro forse vi dovete mettere d'accordo con più persone per quanto riguarda il lavoro asso di coppe direi che le cose vanno bene potersi può darsi anche che è un momento nella quale la vostra vita lavorativa anzi è foriera in questo senso di possibilità nella quale vi sentite capiti quindi anzi direi che il luogo nella quale state meglio a dire lavorerei 30 ore al giorno c'è come dire un qualcosa per la quale voi sentite come una mancanza come un qualcosa che vi manca in definitiva lì dove ci sono magari ecco dei problemi no questa è una carta che dice che state vedendo se il vostro intuito vi inganna oppure no fondamentalmente quindi ancora non avete capito magari non lo capirete neanche questa settimana ma almeno avete capito dove dovete guardare questo sì va bene amici del leone anche per voi è tutto fatemi sapere se li va come vi risuona like per sostenere il canale o per farmi capire che le nostre energie metciano in qualche modo ci vediamo con l'oroscopo di maggio ogni giorno con un nuovo video e la prossima settimana con l'oroscopo settimanale alla prossima ciao allora amici del segretario benvenuti 12 carte qui abbiamo la morte asso di coppe la papessa due arcane maggiori settimanina regina di pentacoli quattro di coppe 8 di coppe ammazza quante coppe 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 il giudizio 6 di bastoni il carro e tanti arcane maggiori e 6 di coppe ancora coppe il mondo ancora arcane e il sole una settimanina per voi e 7 di bastoni direi che una settimana non posso dire che è sfidante per voi come settimana quello no ma è una settimana nella quale sgomitate certamente sgomitate o avete la sensazione di una sgomitanza se si può dire così allora per prima cosa andrei a vedere gli aspetti come dire ecco del denaro così ci togliamo il pensiero 8 di coppe diciamo ecco per il lavoro probabilmente voi state portando avanti un progetto per poi passare a qualcos'altro senza avere chissà poi quali grandi belleità per la serie lo fate per la gloria di certo non per il denaro anche se infatti con questo asso di coppe si vede che in qualche modo anzi forse diciamo ecco per quanto voi possiate avere una un attaccamento al denaro in questo caso lo investì lo considerate le vostre spese un investimento emotivo mettiamola così andando a vedere gli aspetti legati alla spiritualità ancora una volta ve lo segnalo perché questo è proprio vostro la vostra cifra da un po di tempo a questa parte si vede che voi del sagittario state facendo un percorso se si può dire così spirituale di risveglio infatti c'è il carro come dire ecco un proseguire in questo senso in questa direzione togliamoci subito il pensiero anche con questi altri arcani maggiori si vede che lì dove avete delle difficoltà dei nemici non lo volete dare a vedere anzi volete dare l'impressione di avere tutto non sotto controllo ma che state bene che siete felici quantomeno qua non è importante che lo siate davvero ma non volete fare vedere quantomeno che non siete felici quello lo volete tenere come una notizia riservata prendervi cura di voi direi che in questo momento l'avete capito che vi dovete mettere prima di tutto e di tutti e anche questo arcano maggiore in qualche modo ecco l'abbiamo smazzato le vostre ambizioni ispirazioni sono come dire con riesumare qualche sogno del cassetto nel cassetto a dire la verità ci sono delle influenze del passato legate a appunto cose nella quale già voi avete dimostrato di essere capaci e quindi probabilmente le tirate le tirate fuori sapendo di avere le carte in regola come dire ecco non è tempo perso andiamo a vedere l'amore anzi prima la famiglia regina di denari casa famiglia quindi tutto a posto si vede che sono relazioni stabili e anche arricchenti nel senso che ci sono degli ottimi delle buone relazioni per quanto invece riguarda l'amore qui si vede che è un momento nella quale state dimostrando al vostro partner che state cambiando quindi che state letteralmente cambiando pelle e voi vedete il vostro partner quasi più disposto a venire a riprendere magari contatti la relazione a riprendere i rapporti con voi diciamo ecco a rimettersi in discussione probabilmente vivete l'amore col 4 di copp con un atteggiamento più assertivo quindi non tutto non accettate tutto e probabilmente anche questo fa parte del cambiamento no sappiamo che voi del sagittario avete fatto un grande lavoro negli ultimi sei mesi dell'anno scorso e anche quest'anno direi in definitiva dobbiamo vedere solamente questa carta qui che ci parla di contatti comunicazioni viaggi siete un po più introspettivi più che non è introversi ma più introspettivi quello sicuramente sì quindi non dite tutti i fatti vostri a tutti quanti quello che volete veramente ve lo tenete magari tenete in certi casi anche una certa facciata se dovesse servire va bene ok è tutto anche per voi amici del sagittario buona settimana ci vediamo con l'oroscopo di maggio con l'update settimanale fra una settimana ogni giorno con un nuovo video se vi va mettete like e noi ci vediamo presto a presto ciao